C'è anche il direttore dell'arsenale militare di Taranto, il contrammiraglio Cristiano Nervi, tra i 12 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare all'arresti domiciliari, emessa nell'ambito dell'inchiesta per l'aggiudicazione di appalti relativi a lavori di ammodernamento e riparazione di unità navali in dotazione alla Marina Militare di Taranto. Nervi risponde di turbativa d'asta in concorso con alcuni imprenditori. L'altro ufficiale coinvolto è Antonio Di Molfetta, addetto all'ufficio servizio e efficienza navi della stazione navale di Taranto a cui vengono contestate cinque ipotesi di corruzione aggravata, in quanto avrebbe assicurato ad alcuni imprenditori l'affidamento di appalti di servizi ricevendo in cambio utilità i due dipendenti civili dell'arsenale militare raggiunti da misura cautelare sono Bele Danofrio, assistente amministrativo presso l'arsenale militare e Federico Porraro, funzionario amministrativo responsabile della custodia di due magazzini della direzione di commissariato della Marina. Di associazione per delinquere rispondono gli imprenditori Armando De Comite, Angelo Raffaele Ruggero, Alessandro Persio, Fabio Greco, Nicola Pletto, Giovanni Pletto, detto Gianluca, Giona Guardascione e Giacinto Pernisco considerati amministratori di fatto o di diritto di alcune società.